Questo video riguarda la presunta rotazione della Terra a palla e il presunto rigonfiamento all'equatore. Ci raccontano che la Terra gira a migliaia di miglia per ora sull'equatore e questa rotazione crea una forza centrifuga sufficientemente forte da sollevare il suolo di 14 miglia in alto per migliaia di miglia tutto attorno all'equatore della Terra. Ma oltre all'equatore che si rigonfia c'è che da polo a polo la forza centrifuga causa lo schiacciamento e ci dicono che tutto questo accade sotto i nostri piedi. Tutto il suolo, rocce, terra e tutto ciò che abbiamo si muove verso l'equatore. Ora credete che siamo esenti da tutto questo sulla superficie della Terra? Tutto quanto cerca di spostarsi verso l'equatore e il suolo cerca di schizzare via dalla palla? Sulla superficie vediamo laghi come questo. Vediamo masse d'acqua immobili come vetro. Questa è una frode. Ce lo hanno fatto credere. Questa è fantascienza. Molti anni fa qualcuno decise, un gruppo di persone hanno deciso di manipolare l'umanità e di raccontarci questa fantastica fiaba della palla rotante. Ma questo rigonfiamento equatoriale non ha senso. Ma hanno fatto questo, così abbiamo dubitato dei nostri sensi, senza fidarci dei sensi, assecondando gli alti sacerdoti, gli scienziati che ci hanno dato il senso della realtà, i quali hanno definito la nostra realtà, raccontandoci cosa è vero. Anche se ci dicono che non sentiamo questo movimento, non vediamo questo movimento manifestarsi sulla Terra, non vediamo questa perturbazione. Il risultato è questo. Non può esserci questa forza centrifuga che si manifesta dentro la Terra sotto di noi, sotto i nostri piedi di ben 14 miglia, con un'ampiezza di migliaia di migliaia e miliardi di tonnellate di Terra che si muovono appiattendo i poli senza che la stessa forza si manifesti sulla superficie della Terra. Fatto. Chiuso. È così. Quello che voglio dire è che al 100% è corretto. È un fatto. Al 100% non può manifestarsi sulla Terra e non può manifestarsi sulla superficie della Terra. Se la Terra si rigonfia significa che tutto quanto cerca di volare via. E direte, sì, è come stare su una montagna e non volare via dalla montagna. Ma la montagna è formata da un sistema completamente differente. Il rigonfiamento equatoriale è formato dalla forza centrifuga, che è quello che ci dicono, che è collegato alla velocità di rotazione. Questo è quello che dice Wikipedia. Il rigonfiamento equatoriale è causato dalla forza esercitata dalla propria rotazione. E dice che la Terra è duttile, che significa malleabile, è flessibile. Il rigonfiamento equatoriale è diminuito a passi. Ecco la chiave. A passi. Con la diminuzione della velocità di rotazione. Questo significa che se la Terra accelera, il rigonfiamento è maggiore. Se la Terra rallenta il rigonfiamento è minore. Per tutti coloro che amano dire che il rigonfiamento è avvenuto quando si è formata la Terra, non potete dire questo perché dovete cambiare Wikipedia e tutti i libri di scienze. Ma se anche dico questo, diranno, ok, giusto, si è formato quando si è formata la Terra. Bene, se dicono che la Terra gira 1250 miglia orari all'equatore, anziché 1040, non c'è molta differenza. La Terra si rigonfierebbe sempre. L'acqua e tutto il resto continuerebbe a precipitarsi verso l'equatore. Così, quello che ci raccontano è che siamo sottoposti a questa forza centrifuga. una forza centrifuga sufficientemente potente da rigonfiare la Terra in su di 14 miglia. Ora, miracolosamente, non ci influenza qui sulla superficie della Terra. Non si può stare su una Terra che si rigonfia a causa della forza centrifuga in grado di sollevare in su il suolo di 14 miglia per un'ampienza di migliaia di migliaia. Voleremmo via. Andiamo a ristabilire un po' di buonsenso e di sanità. Non si può vivere su una palla. Cadremmo via. Navigare attorno al mondo. Tutto in giro? Sì. Ma che succede là in basso? Non cadiamo fuori? No. Saremmo trattenuti molto forti. Wow. Non possiamo vivere su una palla rotante, di certo. E definitivamente non possiamo vivere su una palla rotante che crea un rigonfiamento equatoriale alto 14 miglia per un'ampiezza di migliaia di miglia. Questo è un evento, un cataclisma catastrofico. Saremmo tutti morti. Nessuna vita su una cosa così. Ecco un piccolo video che ho fatto che illustra come dovrebbe essere questa Terra palla mentre tutta l'acqua si precipita verso l'equatore insieme al terreno al di sotto dove i poli si appiattiscono e l'equatore si rigonfia di 14 miglia in altezza. La Terra sarebbe molto simile a una cosa come questa. La Terra non ha una pelle che la ricopre. Voglio mostrarvi questo. Ho preso un palloncino d'acqua e l'ho fatto girare. Il palloncino ha una membrana. Ora, perché si rigonfia il palloncino? Per la stessa ragione per cui questo falso, tramato, costruito, sferoide oblato che ruota, si rigonfierebbe. Il palloncino si rigonfia perché c'è il contenitore del palloncino. La parte interna, l'acqua, vuole andare via, vuole diffondersi fuori, volare via, volare fuori verso l'equatore. Ecco perché si rigonfia proprio al centro. Ora, se osserviamo quest'altra palla rotante fatta di gomma porosa che ho impregnato con dell'acqua colorata di blu, si vede che vola via. Quando faccio girare questa palla, l'acqua all'interno inizia immediatamente a girare via. Appena la palla inizia a muoversi, succede un evento catastrofico, un cataclisma se vivete su questa palla. Se siete microscopici, vivete su una palla, sarebbe una catastrofe. Tutto quanto farebbe schizzare fuori l'acqua. Perché il palloncino si rigonfia? Come ho detto, il palloncino si rigonfia perché l'acqua cerca di volare fuori. È l'acqua che spinge contro il lattice del palloncino che causa il rigonfiamento. Come ho già detto, la terra non ha la pelle ed anche la palla di gomma a destra non ha la pelle. Come potete vedere, se il rigonfiamento equatoriale fosse vero, l'acqua volerebbe ovunque. E se anche la terra avesse la pelle, la superficie non ce l'ha dove viviamo. Abbiamo laghi aperti di acqua, oceani, laghetti, e ricordate che l'acqua è la cosa più facile da perturbare rispetto a tutte le altre sostanze sulla terra. L'acqua mostrerebbe qualsiasi movimento, ma riusciamo a vedere l'acqua come il vetro, immobile, ovunque sulla terra, nonostante tutti noi ci precipitassimo verso l'equatore. E voleremmo via perché il suolo sotto di noi praticamente volerebbe via. 14 miglia di altezza, ma ci dicono che non sentiamo, notiamo nulla di questo perché senza gravità si perde la battaglia. La gravità è magica? Non esattamente, Pepper. In termini semplici, la gravità è pari a g per m diviso il raggio al quadrato dove g è la costante gravitazionale. Allora è magica? Sì, è magica. Giusto! Fra la forza centrifuga e la gravità c'è la forza centrifuga che la vince perché la terra si rigonfia in su di 14 miglia per un'estensione di migliaia di miglia con tonnellate, tonnellate, tonnellate di rocce e terra. Quindi è ovvio che dovremmo sentire questo se fosse vero. Pertanto, per dire che viviamo sulla superficie della terra dove ci sono laghi immobili totalmente non influenzati da questo, non ha senso, è una sciocchezza, è spazzatura. Si tratta di uno stupido modello e se vi fermate a pensate su questo vedrete quanto è ridicolo tutto ciò. Fa parte del loro modello, sapete, ho detto molte volte che non si sente la rotazione perché c'è solo una rotazione ogni 24 ore. Diciamo che, non mi interessa quello che dicono, ma c'è un rigonfiamento equatoriale associato con il loro modello il quale dice che la forza centrifuga è sufficientemente forte. Voglio dire, hanno una terra che ruota a migliaia di miglia? Allora l'equatore è abbastanza forte da sollevare il terreno di 14 miglia. Questo è quanto viene affermato dal loro modello. Questo è stupido. Siamo stati abbindolati da questo. Il nostro buonsenso è stato soffocato, messo da parte, annullato e gettato nella pattumiera in modo da credere a questa immondizia. Perché sappiamo che la terra non si muove, ma loro dicono, oh bene, come pensi di sentire una rotazione in 24 ore? Guarda la lancetta corta su un orologio di 24 ore. Questa fa un giro ogni 24 ore. Sei in grado di sentire questo? Ovviamente diremmo no. Ma quello che non ci dicono è che la lancetta inizia al centro della Terra e finisce sull'equatore. E sull'equatore il raggio della Terra si suppone sia 4.000 miglia. Pertanto all'equatore in questo momento si muove a migliaia di miglia per ora. Sentireste questo? Io penso di sì. Ma direbbero che è come se fossimo su un'auto a 80 km all'ora. Sentireste questo movimento? O su un aereo che viaggia 800-900 km per ora. Sentireste questo? Ovviamente dovremmo dire no. Non sentirei questo, ma torniamo indietro per qualche secondo. È il suolo che risente questo. Il suolo si rigonfia all'esterno di 14 miglia. Si rigonfia in su esattamente in fuori. Voglio dire, questo è più alto di qualsiasi volo aereo. 14 miglia e di altezza in aria. Voglio dire, questo è stupido. Questo è il modello su cui ci dicono che viviamo. Mentre quello che sperimentiamo è questo. Laghi ed acqua come vetro. Calmi come questo. È impossibile. Perché, come ho detto, appena una palla inizia a girare, come questa palla, la palla di gomma, l'acqua inizia a volare fuori. E là succederebbe un evento catastrofico. Ora, se prendiamo la stessa acqua e la mettiamo all'interno di un palloncino in lattice, ecco che avrebbe una pelle stirata, tanto che si rigonfierebbe. Il fatto che si gonfia ci dice che tutto quanto vorrebbe volare via, vorrebbe schizzare via dal centro di rotazione. Ma se osserviamo la Terra, loro ci dicono che la Terra è rigonfia. Se la Terra è rigonfia, tutto quanto vuole volare via. Ma fin tanto vediamo laghi come questo. Calmo come il vetro. Questo dimostra proprio che tutto ciò non succede. È una frode. Quindi, perché non voliamo via dalla superficie? Ovviamente dovremmo volare via. Siamo lontani dal centro di gravità. Il centro di gravità è dove è più forte, pertanto è più debole con più si è lontani. Dal centro di gravità, che è dove ci troviamo. Quindi, 14 miglia più in basso di noi c'è una gravità più forte di quella che abbiamo. voleremmo fuori, andati. E numero 2, la forza centrifuga è più debole a 14 miglia sotto di noi, ma più forte sulla superficie perché è più lontana dall'asse di rotazione. Pertanto, meno gravità che ci tiene in basso e più forza centrifuga che ci lancia fuori. Perciò, nuovamente dovremmo volare via. Ora voglio parlarvi di questo proprio qui. Tutta l'acqua vuole muoversi verso l'equatore, come vi ho mostrato su una palla che gira. Vedere l'acqua, come si muove. Così è come funzionerebbe su un modello a palla, dove la gravità tirerebbe tutto al centro. Quando la Terra è stata formata era una sfera perfetta perché la gravità tirava tutte le masse, le grandi masse, in una sfera perfetta. Questo è quello che ci dicono, è una teoria. Ma come inizia a ruotare, inizia a rigonfiarsi e sfigura un po' la Terra. Come potete vedere, sull'asse di rotazione tutto quanto spinge verso l'esterno o alla tangente o tangenziale all'asse di rotazione, ma la gravità tira verso il centro della Terra. Quindi potete vedere che l'unico posto qui dove c'è l'equatore, dove il rigonfiamento equatoriale spinge in fuori e la gravità tira in dentro, questo è l'unico posto dove c'è un po' di equilibrio, possiamo dire. Non è così. È il punto massimo dove si volerebbe via dalla Terra. Ma qui le due forze sono equilibrate. una con l'altra, ma in tutti gli altri posti, potete vedere che la gravità inizia ad avere un angolo fra la direzione della forza centrifugale e la direzione gravitazionale. Pertanto non si avrebbe mai l'acqua immobile in qualsiasi posto sulla Terra. Tutta l'acqua sarebbe influenzata a precipitarsi all'equatore. Sarebbe un cataclisma, sarebbe una catastrofe. Ciao ciao palla! Ok, grazie mille e ci sentiremo presto. Grazie per esservi sintonizzati. Grazie mille e ci sentiremo.